Il rilancio di Villa Serena non può passare dalla sua privatizzazione. Non usa mezzi termini. Angelo Vernillo, consigliere comunale, che sul presente e sul futuro della struttura dell'ISA cabassano, sposa l'idea di una casa di riposo comunale, capace di tessere partnership, ma mantenendo l'anima pubblica. Non bisogna fare una privatizzazione di Villa Serena, non bisogna svendere quello stabile. Quello che bisogna fare è mantenerlo in proprietà del comune, mantenerlo in disponibilità pubblica e trovare delle modalità nuove, con dei partenariati, con della collaborazione col terzo settore, col privato sociale, per poter mantenere e aumentare questa qualità di servizio agli anziani della città. Qualità dei servizi che un'indagine interna fra gli ospiti della struttura e i familiari ha visto ampiamente premiato il lavoro svolto da Bassano Solidale. Per loro, ad esempio, i fattori più importanti nelle votazioni sull'operato di Bassano Solidale sono risultati essere il cibo e la biancheria seguiti dall'attenzione e dal rispetto dell'anziano. Non è pensabile assolutamente qualsiasi tipo di altra ipotesi o pensiero che non preveda Villa Serena, che rimanga un patrimonio di tutta la comunità bassanese.